Stimolare i ragazzi e le famiglie a leggere, avvicinarsi ai libri e scoprirli. E' l'obiettivo della festa della letteratura Bimbi a Bordo, giunta alla dodicesima edizione, in programma dal 29 agosto al primo settembre a Guspini, nei cantieri minerari di Montevecchio, che diventano per il secondo anno consecutivo luoghi in cui far volare la fantasia tra archeologia industriale e ambiente incontaminato. La fantasia per loro è la base, è il libro, è la cosa che li aiuta a vivere tante avventure, tante vite, tante storie, semplicemente, a differenza di tutte le altre attrazioni che vanno veloci, corrono, i bambini hanno bisogno di tempi rilassati, distesi, da dedicare a loro, perché poi spesso i tempi veloci sono i nostri, degli adulti. Un buon percorso anche per gli adulti, cioè riscoprire qualcosa da fare insieme, aiuta molto a riscoprire qualcosa da fare per se stessi. Presentazioni di libri, incontri con gli autori, laboratori per grandi e piccoli, ma anche formazione, dibattiti e concerti. Un programma variegato, quello della dodicesima edizione del festival, Phil Rouge, il ritmo, cuore pulsante di ogni narrazione. Abbiamo scelto questa figura che non è solamente una figura musicale, ma riguarda proprio il rapporto tra le parole, le immagini, le azioni, i gesti, i movimenti, che si sembrava interpretasse bene lo spirito del festival, che incrocia vari tipi di culture, arti performative, il teatro, la letteratura, le immagini. Il ritmo è una grande figura del tempo, perché ognuno poi dà in qualche modo ritmo alla sua vita o alla sua quotidianità attraverso delle figure che prendono corpo dentro le storie individuali, collettive. Il rilancio dei piccoli comuni, la lotta contro lo spopolamento, passa anche dalla lettura, dalla cultura. Con il finanziamento dei festival letterari riusciamo veramente a coprire tutti i territori della Sardegna, anche i paesi più piccoli, ed è proprio un fermento culturale sempre maggiore. Diciamo che lo spopolamento e l'acculturamento della regione si combatte anche così.